Forza Gigio, ancora uno sforzo che ce la fai, forza, sei quasi arrivato, sei l'unico, forza, ancora un piccolo sforzo e hoppede, c'è, oh mamma, oh mamma, mi pensi un po' chi c'è, guarda qua, ciao, ciao Peter Gomez, ciao Topo Gigio, ma allora è vero, ci sei anche tu a TV Loft, certo, certo che ci sono anch'io, fresco, fresco di giornata, ben arrivato allora, grazie mille, posso disturbarti un attimino? Vorrei sapere cosa stai facendo? Sto rileggendo la scaletta della nuova puntata del mio programma Ah, senti, allora, fammi indovinare, canzonissima No, no Ehm, 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 rischia tutto? No Ehm, un, due, tre, giochi senza frontiere No, la confessione Ah, ma come mai non ci ho pensato prima? Ma sì, certo, la confessione Ah, perché, tu conosci il mio programma? Ehm, no, veramente no, perché sai, io sono un topino piccolino piccolino E alla sera vado a letto presto Ah, guarda che non c'è problema, perché con TV Loft tu i programmi li puoi vedere come vuoi, dove vuoi e quando vuoi E di che cosa parla il tuo programma? Beh, io intervisto dei personaggi importanti e cerco di fare le domande che di solito gli altri non fanno Senti, salgo un ottimo sulla tua, eh, la tua spalla, ecco, scusa, in tutta confidenza Ehm, hai intervistato un topino piccolino e simpatico come il sottoscritto? No, in tutta confidenza no, però potrebbe anche essere una buona idea, sai E magari riesce a farmi confessare cose inconfessabili Ehm, penso un po', io, Topo Gigio, intervistato niente po' di meno che... da Peter Gomez Mamma, mi tremono i baffi dalle emozioni Guarda, se poi l'intervista avviene bene potremmo anche proporre di fare un programma insieme Topo Gigio e Peter Gomez Ma cosa mi dici, dici, ma, Peter, sarebbe un vero onore E' proprio vero, ragazzi, che TV Loft è il nuovo modo di vedere e fare la TV Anche per un topino piccino piccino come il sottoscritto E adesso, Peter, faccio la mossa, eh, ti lascio con la mossa Attenzione, pronti! Ehi! Oooooook! TV Loft e Te! Uno spesso di televisione! Finalmente, a gennaio su TV Loft con il mio Crazy Lady Show! Mua!